Ciao a tutti ragazzi, io sono Gego e sono qui quest'oggi per portarvi la play review di Castiglio Toz Allora inizio subito a dire che questo giocatore costa troppo, nel senso che il rapporto qualità-prezzo non è proprio al massimo Nel senso adesso vi faccio capire un po', se voi con 500k potete prendervi giocatori decisamente più forti di Castiglio Però quindi capite già un flop che posso già dirvi ed è appunto il prezzo Il prezzo di questo giocatore diciamo è troppo elevato, il rapporto qualità-prezzo non va bene Adesso lo capirete anche bene nel corso della play review Andiamo a vedere le caratteristiche generali 96 di velocità, 32 di dribbling, 75 di tiro, 44 di difesa, 65 di passaggio e 65 di fisico 4 stelle skill, 4 stelle via debole Allora questo giocatore dal punto di vista della velocità è veramente qualcosa di assurdo 93 di accelerazione, 98 di velocità scatto, niente da dire veramente una setta Con 97 di rigidità rende questo giocatore veramente molto molto agile Dopo aver parlato della velocità che comunque è un top in discusso Troviamo il dribbling, il dribbling che è veramente buono perché ha 72 di controllo di palla E sembra anche un pochino di più in game 85 di dribbling ed è buono, di dribbling puro ecco Con le 4 stelle skill e tutto capite che potete dribblare con questo giocatore con più modi Ecco, o attraverso le skill, o attraverso il controllo di palla Oppure attraverso la velocità, oppure ancora attraverso l'agilità ecco Allora parliamo del tiro ragazzi, il tiro mi ha un po' di eluso ecco Dal punto di vista soltanto della finalizzazione perché doveva mettere più gol dentro secondo me Però soltanto di 76 con sto valore Quindi capite subito che ci può anche stare che mi sbagliava appunto alcuni gol Ecco, dopodiché andiamo appunto a analizzare tutto il tiro Troviamo 72 di tiro a giro, 72 di long shot Che appunto mi ha fatto un bel long shot 77 di potenza a tiro mi sembra un pochino di più E il tiro al volo, 67, mi ha segnato alcuni tiro al volo E secondo me ha tipo in game 70, 73 ecco Una caratteristica di questo tipo ecco Quindi il tiro non lo metto né tra i top né tra i flop Tranne la finalizzazione appunto che non mi è piaciuto affatto ecco Anche se lo dico in 5 partite che mi ha fatto 5 gol e ho fatti Però ragazzi con tutte le occasioni che gli sono capitate dovevo arrivare Non dico a 10 però a 9 o 10 appunto dovevo arrivarci ecco Dopodiché ragazzi troviamo appunto il 65 di passaggio che si divide in 59 di visione Vabbè capite che è un'ala, non è che gli interessa più di tanto Il 66, il 63 di cross infatti non ho provato i 2-3 Non sono mai arrivati alla testa di Arizala appunto Che era l'attaccante che utilizzavo in questa squadra ecco Come passaggio è abbastanza decente nel senso che ha 72 di passaggi corti E 62 di passaggi lunghi Passaggi lunghi per un'ala non li utilizzerete quasi mai Utilizzerete prevalentemente i corti Però io comunque come valore non me lo sento di metterlo come top ecco Tranne il cross che è comunque un flop Anche se se lo utilizzate come ATS non utilizzerete quasi mai il cross Però comunque perché lo utilizza come ala sappia che può riscontrare questa caratteristica Che non è proprio il massimo ecco Ok ragazzi dal punto di vista del fisico di questo giocatore è abbastanza messo discretamente bene Ecco non so se si può dire onestamente E si trova con 76 di stamina e questo valore non è che l'ho sentito più di tanto Nel senso che dopo un po' si sta anche vero Dopodiché troviamo 56 di potenza, di forza scusate E questo è l'unico valore un po' negativo Però grazie all'80 di equilibrio riesce un po' a reggere quelle spallate ecco Troviamo anche il 73 di aggressività che è un valore molto molto buono di questo giocatore E quindi riesce a recuperare ciò che perde ecco E 84 di posizionamento quasi sempre è in posizione Anche se numerose volte, lo dico, un po' di volte Appunto nei contropiedi oppure in determinate azioni Tentava di restare un po' indietro Quindi non lo metto né tra i top né tra i flop il posizionamento Perché secondo me appunto non è così tanto via di tiro Ma non è nemmeno un flop appunto ecco Ragazzi che capitano i top e flop di questo giocatore Troviamo appunto nei top la velocità, il dribbling e il tiro Che appunto come ho detto in precedenza è buono in sé per sé In tutte le caratteristiche L'unico flop appunto inerente al tiro è la finalizzazione Considito appunto nei flop E come altri flop troviamo appunto il prezzo e il cross Che mi sono dimenticato di inserire nella miniatura finale ecco Quindi ragazzi che dire se vi è piaciuto questo video Vi invito a mettere like, iscrivetevi al canale Di passare tutti i link in descrizione Bella tutti ragazzi dal vostro caro Gecko e alla prossima